Buona presentazione, ci ha accompagnato in momenti effici e anche dolorosi, un percorso antilezzi anche un pochino accidentato, quindi pensavamo che chi meglio di lui ci potesse aiutare a fare anche un penpunto della situazione. Oggi in fondazione CS Mare continua a occuparsi, anzi voglio dire ha rilanciato anche il proprio impegno di CS Mare all'interno del nuovo programma del Green New Deal dei Porti. Mario ti passo la parola senza tergiversare. Grazie, buongiorno a tutti. Mentre metto in condivisione lo schermo, approfitto per innanzitutto ringraziare l'autorità portuale, come diceva Antonella, gli amici, che è come ha detto Massimo Provinciali, come ha detto il segretario generale, credo che stiate vedendo il schermo in questo momento. Sì? Sì. Sì. La seconda cosa, informo tutti, gli speaker lo sanno, ma ricordo a tutti che questo seminario è registrato e sarà quindi poi visibile tutto completamente, la registrazione è già iniziata, sarà poi visionabile sul canale YouTube dell'autorità portuale. e in ultimo gli speaker sono informati, ma io verrò man mano informato di quando gli speaker staranno per iniziare, presenterò brevemente, ma chiedo poi già a tutti gli speaker ovviamente di completare la brevissima presentazione che farò di chi sono e come mai sono qua. Detto questo passo alla presentazione e io, come detto, faccio un po' la storia di Gain IT e cerco di farla in maniera molto rapida, evidenziando quelli che a mio avviso sono stati gli step più importanti e più rilevanti di questa iniziativa. Tra l'altro, come diceva giustamente il segretario generale, sei anni, ormai Gain IT comincia ad andare a scuola. Allora, brevissimamente vi dico cos'è Fondazione CSMare, l'ha già detto Antonella Querci, è una fondazione, opera per aiutare i piccoli, le piccole e medie imprese, le piccole municipalità, a, diciamo, rendersi in linea con quelle che sono le grandi iniziative della Commissione dell'Unione Europea. E lo facciamo operando da Bruxelles, in questo momento da Genova, in smart working, e lo facciamo anche con eventi come questi. Quindi passiamo subito a Gain IT. Voglio, ho pensato e ho ritenuto che fosse simpatico iniziare la storia di Gain IT con questo. Il 5 settembre del 2014, l'Italia aveva la presidenza della Commissione Europea e l'allora direttore generale PUA e partecipò, incontrò, chiese un incontro con il direttore generale della DG Move, all'epoca il dottor Maciado, proprio per dirgli che l'Italia aveva deciso, l'amministrazione italiana, il ministero dei trasporti, il ministero del sviluppo economico, il ministero dell'ambiente, il ministero delle politiche agricole, avevano deciso informalmente di unire le forze per fare assieme una cosa importante sull'LNG. Era, ripeto, il 5 settembre del 2014 e subito dopo il direttore Maciado ci disse iniziate per favore dalla parte marittima perché sarà quella più lunga. E subito dopo, l'11 novembre 2014, praticamente sei anni fa, ci fu una riunione al ministero dei trasporti, la riunione sostanzialmente costitutiva, frutturata, le autorità portuali e le autorità portuali, come è già stato ricordato, è stata un'iniziativa diciamo spontanea, non formalizzata. Cosa ha portato questo? Ha portato alla definizione, siamo ormai all'inizio del 2015, a quello che all'epoca avevamo definito il network di Gain ET, dove avevamo individuato alcuni nodi, sono qua indicati i nodi rappresentati delle autorità portuali che all'epoca decisero di aderire, di darsi da fare. Gli chiamiamo i nodi e per ogni nodo identificammo degli elementi, dei componenti, degli aspetti, chiaramente dovuti alla specificità di ognuno di questi nodi. Adesso la faccio breve, però tra di voi, non a caso, in questo webinar parliamo di nodi, ci sono i nodi di quelli che sono riusciti ad andare più avanti. Ricordo che all'epoca c'era una direttiva che avrebbe imposto dal 1 gennaio 2020, solo nelle acque europee, l'utilizzo di combustibile con tenore di zolfo 0,5% per le navi, mentre all'epoca, parliamo del 2015, non era scontato che questo si potesse fare per tutte le navi del mondo. Quindi un primo passo importante, un elemento importante nella storia di Gainity è stato il 27 ottobre del 2016 quando l'IMO decise che dal 1 gennaio 2020 in tutto il mondo sarebbe stato obbligatorio utilizzare combustibile con non più dello 0,5% di tenore di zolfo, chiaramente rendendo più appetibile, più interessante l'utilizzo dell'NLG rispetto a un'analoga requisito solo nelle acque europee. Da cui nel 2017 la seconda fase di Gainity, la prima costituita sostanzialmente da studi, dal 2015 infatti fino al 2018, nella seconda fase con relativi finanziamenti si cominciò a costruire, a costruire parte di questa rete. Tant'è che il 26 giugno del 2017 il Ministero dell'Infrastruttura e dei Trasporti, la Direzione Generale, presentò in questo caso a un convegno a Catania quello da cui ho tratto alcune slide che vedete. Quindi la Direzione Generale stava in quel momento coordinando il progetto ed era orgogliosamente contenta all'epoca dei primi importanti step che sono sintetizzati qua e che sono anche parte della presentazione di oggi. Ricordo con piacere anche l'impianto di Padova. All'epoca, quando iniziò Gainity nel 2014, c'era un unico distributore di gas naturale liquefatto per autotrazione a Piacenza e abbastanza presto capimmo dentro Gainity che dovevamo unire le forze con il settore stradale che si sarebbe sviluppato e infatti, come sentiremo da Licia Balboni, si è sviluppato molto il settore stradale. Quindi nel 2017 Gain contribuì con il distributore di Padova. L'ultimo, logicamente da un certo punto di vista, questo non è un risultato di Gainity, è un risultato dell'Italia, ma Gainity in qualche maniera ha contribuito. Il 19 settembre di quest'anno è stato inaugurato il primo distributore a gas liquefatto, peraltro biogas in Sicilia, quindi si è tolto quello zero lì che vedete, laddove in Sicilia non c'era nessun distributore. Peraltro, appunto, come credo Licia ci racconterà molto bene, in Italia adesso ha ben più di 40 distributori. Quindi questi secondo me sono stati gli step più importanti. Voglio fare brevissimamente, ho quasi finito, un passo indietro. Gainity nasce sulla scorta di un progetto sviluppato dal 2012 al 2014 che sviluppò il master plan per il gas naturale liquefatto nel Mediterraneo. Nel 2014, ad aprile, il progetto si concluse e nel master plan c'erano delle raccomandazioni. Ne ricordo due, perché credo che siano valide tuttora. All'epoca, 2014, maggio, aprile, dicemmo tra le altre cose, bisogna che ci sia una forte collaborazione tra gli Stati per assicurare la continuità della rete dell'LNG, non soltanto per le navi, è ovvio, ma anche per il trasporto terrestre. E, dicemmo, è importante che ci sia un clean field, quindi che le misure di aiuti, sia economici, sia gli aiuti indiretti, la formazione, i regolamenti, le guidelines, siano disponibili a livello almeno di bacino. Credo che questo sia tuttora valido e chiudo mostrando quello che fu la sintesi del progetto Costa, un libro piuttosto interessante, dove l'allora direttore generale, all'epoca, ricordo, aprile 2014, disse serve un network di LNG nel Mediterraneo? E credo che serva ancora, lo sappiamo bene. E io, all'epoca, dissi Gain entro il 2030 riuscirà a sviluppare questo network. Bene, me lo auguro. E adesso, tornando, do la parola a voi.